E allora eccoci di nuovo insieme per parlare di uno dei festival italiani più importanti dedicati al mondo della sostenibilità. Stiamo parlando di Fa la cosa giusta a Milano dal 22 al 24 marzo per celebrare tra l'altro quest'anno anche un compleanno a cifra tonda. 20 anni di Fa la cosa giusta, qui con noi stamattina per parlare di questo evento c'è Corinne Barbieri responsabile del programma culturale del festival o della fiera. Ciao Corinne, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti e ben ritrovati voi, grazie per questo splendido invito. Se non sbaglio il termine tecnico corretto per definire Fa la cosa giusta è fiera, però mi piace anche l'idea del festival perché mi dà l'idea di Fa la cosa giusta di un evento estremamente dinamico, vivace, assolutamente focalizzato su temi nevralgici del nostro tempo. Per cui Corinne ti chiedo di aiutarci a scoprire questo meraviglioso evento che giunge a spegnere 20 candeline. Un traguardo importante, come dicevi, si, Fa la cosa giusta è una fiera, per cui per chi non la conosce va premesso che nasce con un'ampia sezione espositiva di otto sezioni tematiche che riflettono un po' quelli che sono i nostri consumi, i nostri acquisti e noi cerchiamo di dare delle indicazioni per essere più consapevole. E' anche un momento di festa, un momento di approfondimento su quei temi nevralgici di cui appunto accennavi prima perché l'intento è proprio quello di aiutare chi viene a fare la cosa giusta a fare chiarezza su temi sempre spesso complessi da riuscire ad approfondire da soli per trovarsi in un contesto appunto di comunità con degli esperti, delle persone che hanno intrapreso delle scelte di vita diciamo magari più ardue, più coraggiose, però in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale e capire come il singolo possa fare la sua parte. Non abbiamo la partenza di cambiare il mondo però vogliamo dare diciamo degli strumenti chiari per poter fare la propria parte. Grazie, grazie Corinne. Tra l'altro avete anche un sito molto bello che ci dà la misura di quanto sarà ricco il programma di quest'anno. Io intanto volevo chiederti quali saranno gli ambiti e le tematiche su cui vi dedicherete maggiormente e su cui immagino anche gli stand saranno focalizzati. Allora, quest'anno abbiamo individuato per questi vent'anni un filo rosso che sarà appunto il tema che in tutti i vari ambiti tematici di approfondimento andremo a toccare. Il filo rosso è rendere visibile l'essenziale come si vedeva prima dalla home page. Siamo partiti un po' dal suggerimento che ci arriva dal piccolo principe con l'idea di andare in profondità. Ci sembra che viviamo in un periodo storico dove siamo bombardati da informazioni, da contenuti però a volte è difficile riuscire a orientarsi e quindi è il momento di fermarsi, di vedere un attimo quelle che sono le nostre scelte, i nostri valori e capire se sono ancora quelli, se sono giusti o bisogna magari ripensare, riprogettare e guardare avanti. I temi che tratteremo sono tantissimi, come potrete immaginare, toccano tutti la sostenibilità. Parleremo di come rendere le città più vivibili a misura d'uomo. Parleremo di vacanze slow, come potrete immaginare, quindi immaginando, ripercorrendo quelle che possono essere delle proposte di turismo dolce, a piedi, in bicicletta, proposte anche per chi ha una mobilità limitata. Tantissimo spazio per i bambini con tante attività come quelle pensate dal Museo di Trento e insomma ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Sì, sì, infatti dicevamo che il programma è molto ricco e quanti vogliono approfondire tutto quello che succederà quest'anno a Far la Cosa Giusta possono accedere al sito ufficiale della manifestazione faracosagjusta.it, se non sbaglio, Corinne. Esatto, andando sul nostro sito troverete tutte le informazioni per accedere alla fiera, acquistare biglietti che vi consigliamo di comprare in anticipo per evitare appunto delle code e il programma culturale diviso per temi, tipologie, perché come vi anticipavo non abbiamo solo incontri ma anche attività per i bambini, mostre, tantissime mostre, degustazioni, sportelli per consultare alcuni esperti su determinati temi, quindi ce n'è veramente di tutto e in OnPage trovate anche quelli che sono i nostri big, i grandi nomi, ci sarà Giovanni Storti, ci sarà Martina Micciche, ci sarà Don Zuppi, tantissimi, tantissimi ospiti per voi, per voi, per aiutarvi e aiutarci a trovare nuove strade per essere più consapevoli, per essere più attenti e provare a cambiare a piccoli passi il mondo insieme. Ecco, ad aprire gli incontri di questa ventesima edizione sarà proprio venerdì 22 alle ore 11 il Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, nonché presidente della conferenza episcopale italiana, oltre che essere l'inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina, quindi se vogliamo anche un taglio del nastro, diciamo così, che non dimentica quello che è lo scenario internazionale in questo momento. Sì, confermo, sarà un momento un po' di inaugurazione per affrontare dei temi difficili che però appunto ci stanno riguardando sempre di più e con lui parleremo di come costruire strade di pace, per cui non c'è solo il conflitto ma ci sono delle alternative e attraverso appunto la sua saggezza, cercheremo di capire come costruire nuovi orizzonti impostati sulla pace e non sulla guerra. Parleremo di guerra in tantissimi altri appuntamenti, cercando appunto anche lì di aiutare i visitatori a capire meglio cosa sta succedendo e ancora una volta come il nostro ruolo, anche in ottica ad esempio delle elezioni europee, può essere molto importante. Bene, noi veramente siamo molto grati per il lavoro che fate e con tutta la redazione seguiamo sempre con interesse questo festival da tanti anni, questa fiera da tanti anni, vero Paola? Eh sì, veramente seguiamo, fa la cosa giusta dai tempi in cui eravamo Radio Tau, la voce di Padre Pio, saluto anch'io la tua ospite Corinne Barbieri, mi collego a questo importante e interessante appuntamento leggendo una notizia riportata su buonenotizie.it perché a Torino ho appena aperto il centro di studi e ricerca sul cibo sostenibile, si parla appunto di sostenibilità, un centro che si prefigge di contribuire attivamente a sensibilizzare su temi dell'educazione alimentare e stili di vita consapevoli, perché secondo un'indagine condotta da Ipsos, le ragazze e ragazzi che hanno meno di 26 anni hanno maturato una forte sensibilità ambientale sulle proprie scelte alimentari e quindi questa è una buona notizia, come dire, quando l'alimentazione diventa sostenibile già a scuola. Grazie, grazie Paola. Corinne, volevo fare una piccola riflessione, un'ulteriore riflessione con te, quello che stiamo scoprendo affrontando i temi della sostenibilità e che, ecco, correggimi se sbaglio, molte volte abbiamo l'impressione che i giovani siano più attenti degli adulti rispetto a questi temi. Qual è la tua percezione e quanto è importante fare la cosa giusta anche in quest'ottica? È vero, è una percezione che abbiamo in qualche modo riscontrato anche noi. Aggiungo un pezzettino che forse appunto non avevo anticipato prima. Per fare la cosa giusta tutta la parte dedicata appunto ai giovani è fondamentale, tanto che la giornata di venerdì è interamente dedicata alle scuole, dai bimbi della scuola dell'infanzia fino alle superiori e l'idea è proprio quella di costruire un palinsesto dedicato a loro, dove possono anche di sperimentare temi che magari in classe non c'è spazio e difficilmente si riescono ad affrontare. Tra i tanti temi c'è ovviamente quello dell'alimentazione, della nutrizione che affrontiamo con loro e la percezione è proprio quella che a volte sono gli stessi bambini, giovani che vadano in qualche modo a bacchettare i genitori e li riportino in una dimensione di che cosa stai mangiando, perché, che cosa c'è dietro quell'alimento. Quindi si torna al tema della consapevolezza, il fatto che abbiamo delle nuove generazioni più attente e consapevole a quello che c'è dietro ai prodotti e dietro ai nostri modi di spostarsi in città, di viaggiare, di ragionare in maniera automatica, il fatto che loro dicano no aspetta fermati un attimo, perché lo fai così? C'è un altro modo per farlo, potremmo farlo in maniera differente. È importantissimo perché va a rompere un meccanismo automatico che noi adulti abbiamo mai automatizzato, così come non va bene. Quindi è una percezione molto corretta. Grazie, grazie Corine. Fa la cosa giusta è importante anche per questo, per cui noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare dal vivo di persona a questo bellissimo evento che si terrà a Milano, come detto, dal 22 al 24 marzo e andare sul sito ufficiale della manifestazione per reperire tutte le informazioni utili. Per cui, Corine, non mi resta che augurarti davvero buon lavoro, ma come detto torneremo a risentirci perché vogliamo seguirvi da vicino in questa ventesima edizione. Avete preparato la torta? ci stiamo lavorando, sto sbattendo le uova. Grazie, grazie ancora. E allora buon lavoro, come detto, grazie per la disponibilità, per essere stata con noi stamattina, ci risentiremo molto presto. Grazie mille, buona giornata. Grazie, grazie a te, a tutto il team di Fa la cosa giusta, davvero una bellissima iniziativa. Bene, noi siamo giunti al giro di boa del sabato di Just Today, ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo con l'ultima parte del nostro Just Today.